VIA DEI CO*****TI VIA! Il gioco è sceso a 20 euro, quindi tenetevi pronti perché arriverà sicuro. Però intanto direi di cominciare quindi con la demo di Resident Evil 3 e vedere una creatura ancora più mostruosa di Mr. X. C'è il DEMOGIST! Capitano, alla signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Jill, dai! Che è un membro d'elite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Jill. Sono Michael Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere gli civili. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Sì, 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 sì. Sì, sì. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, sì. Beh, siamo sulla stessa parte. Grazie, Jill. Ok, super tale. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è il maragno. Mica, come me la ricordavo se è tanto antipatica, eh? Vai in superfuscia. Va bene. Sari al piano di sole. Troverai il telefonino. Ok. UBCS. Sì. Proiettili. Ok, come se corre? Vabbè, ehm. Sì. Tengo un giornale scandalistico. Non so leggere. Non mi va di leggere. La zona è tutta distrutta. Sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei tornare? Devi prima ripristinare la corrente. Sparerò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Queste mi servono. Grazie. Uh. Questo è tutto per essere utile. Pianta rossa. Posso combinarle. Yes. Quello sarà abbastanza utile. È il stato di cui parlavano nella descrizione. Muori. A parte che alla fine della demo ci sta anche un trailer speciale. Proprio apposta per quelli che hanno finito la demo. quindi non so quanto possa averci a me. Se lo pubblico questo video. Oh beh. E' bello. E' bello. Figlia. C'è una mira fantastica. Oddio. Quando arriva... Lui. Oh. Ma che cazzo è sta storia? Cazzo. No, 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 no. Che pale sono dappettuto. Ok. Via dai coglionas. No, no. Tu se sbagli. Io non ci sto più qui. Ciao. Chiudi. Bravo, grazie. Stifata. Ah, ok. Vabbè. Quanta bella gente. Ok. La mappa. Si, c'è. Dove resta andare ad andare? Però penso sia qualche cosa. Carlos, sono nella strada principale. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? E' la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Mi intendi forse il dicolo in fiame? Forse. No. Tipo come te è abituato alle situazioni scontanti, no? Forti. Mh mh. Ah. Che casualità. Eh? This is a big no-no. Oh, no. Oh, no. Eccolo. Eh, si. Via dai coglioni, tipo. Oh, no, no. Via. Vattene. Vattene. Io qui non ci sono secondo di più. Per tutto questo. Dove cazzo sto andando poi? Ok. No, che è sta storia qua. Dove cazzo spara? Ahhhh. Shit. Cadi, caspita. Muori. Questa cosa si è rialzato. Boom. Boom. Mio Dio. Boom. Stavo contro headshot, non morivi? qui. Date una svegliata. Io ho finito le munizioni. Non ti fa mozzicare però. Che cazzo. Sì. Ne vaffanculo. Fuori. Prezzo. Questo è pratico. Il tubo. Cosa? Quanto ho trovato mo'. Me ne date, per favore. Oh mio Dio piglia il fucile si apre. E' vero che... E' vero che... E' vero che... E' vero che... sono così tanto felice di correre in vita mia. Acqua che ora? 9, 1, 8. 9, 1, 8. 9, 1, 8. 9, 1, 8. non lo piglia il fucile. E' vero che... Cazzo. Non lo piglia il fucile. E' vero che cazzo. E' vero che cazzo là. Ma non lo piglia il fucile. Ah, cazzo. un inferno fatto non ci sto a crede io non ci sto più a crede dammi delle munizioni ok va bene anche l'erba da dove cazzo passo ma che cazzo è sta storia i doppi attacchi ma qui c'è andato prima si tu non mi fai ricominciare il gioco merda no che è 9 1 8 aspetta forse ho capito come che devo fare oh no è un macello è un macello qui ci vuole la foto no no basta polvere da sparo veramente combino togliti zi bene bellissimo dove è qui ha ok questo mi serve muoverò dove vado ah che bello c'è qualche altra porta che non ho visto non ho capito non ho capito cioè diciamoci quello che vogliamo ma io non ho capito ah andiamo prima qui ah polvere da sparo dimmi che la posso unire con quella cartucce per il fucile è un safe point la posso usare ok la posso la posso usare aspetta forse ci sta qualche bastardo no ok se mi do una mossa e torno dove ero prima e non ricordo dove ero prima perché era prima del prima oh ho sblocato un'altra strada via 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 dove cazzo devo andare lì si lo so lo so zitto regalo prendo il fucile oh ma sotto è cazzo che vuol dire una porta eeeh non potete niente adesso che schifo potete avversi faccio ma vaffanculo alzo le mani alzo veramente le mani traipa traipa le mani con cazzo che suurde C'è da parte del prodotto? Ancora no, preferisco aspettare quando scende di prezzo, se ci riesco. Beh, spero che faranno qualche sconto perché 60€ io non lo piglierò mai. Se lo fanno scendere, che ne so, 30, 40, ce la vorrei fare. Va bene ragazzi, questa qui era la demo di Resident Evil 3. Spero che vi sia piaciuta, se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!